Non rispondo, abbiamo parlato, eravamo i capigruppi di maggioranza e ora ci siamo dati un appuntamento per domani perché c'è la maggioranza ma noi capigruppo ci sentiremo prima per vedere queste posizioni che ci sono in maggioranza quindi ne parleremo anche col Presidente del Consiglio E oggi che si è detto? Cioè domani ci sarà pure lui con i capigruppo, no? No, 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 no Io comunque ho chiesto di intanto buttare acqua sul fuoco e comunque di trovare una quadra il prima possibile perché comunque logora tutti quanti noi non è che logora solo il Presidente del Consiglio Senti ma questa mozione voi quando siete venuti a conoscenza nel momento in cui è stata presentata o prima? Sì naturalmente noi abbiamo contestato, cioè io personalmente e comunque tutto il gruppo abbiamo contestato il discorso che questa mozione è stata presentata senza essere coinvolti come partito e non come consiglieri normali questo noi siamo venuti a conoscenza il venerdì mattina quando è stata protocollata come Presidente del Consiglio Ma per te è un problema politico oppure è una questione tecnica come dice qualcuno? Sì sicuramente una crisi politica si vedrà se riuscirà a risolversi la situazione è naturale che non esiste crisi politica naturale Cioè risolversi rientra la sfiducia, intendi? Sì, sì, sì Altrimenti si apre una crisi politica? Si può aprire? Si potrebbe, si potrebbe Dopo naturalmente ci sarebbero diversi scenari da valutare ecco Però c'è anche questa eventualità? Sì, sì, sì Il Sindaco che direbbe a voi?